Aiutami Davide, lei ha detto che secondo lei non è vero che tu dici che non provi niente perché tu l'hai guardata con occhi che volevano dire qualcosa Ci penso io Silvia Baru, ma tu sei innamorato, ti piace, vuoi vederla? Non sono innamorato, l'ho appena detto l'ultima volta Vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita Non lo so, le voglio bene, la guardavo come un affetto, un amore profondo per un'amica Il pubblico ha detto, eh non ci crede Ragazzi, ma La volevi han detto La volevo, ma sì, ma io voglio tante cose, però insomma Quello non è uno standard, se io ho voglia di qual... come si può dire? No, lasciamo stare, niente, lasciamo stare Non è la fascia oraria giusta Baru, quindi Parla, ancora, basta, basta, facciamo la finita, basta Mi fai così con tutte le donne Sono venuto a parlare della mia relazione con Dara Esattamente Della nostra amicizia e parliamo di quello, che è una bella cosa Infatti, com'è questa amicizia? Se mi innamoro, mi innamoro e lo faccio sapere alla persona con cui sono innamorato Che sono innamorato Non ti preoccupi, non sono timido Grazie a tutti